Rinchiudetemi nella torre. Lo farei, se potessi. Con quale accusa? Frode. Con la guarda che incombi avete aggravato questa nazione di un re senza voce. Avete distrutto la felicità della mia famiglia solo per poter accalappiare un celebre paziente che non potevate sperare di aiutare. Sarà come il pazzo re Giorgio III. Io sarò il pazzo re Giorgio il Palbuziente che ha terribilmente deluso il suo popolo nell'ora del bisogno. Che cosa fate? Alzatevi, non potete sedere lì, alzatevi! Perché no, è una sedia. No, quella non è una sedia. Quella è la sedia di Sant'Edoardo. Quella gente ci ha inciso dei nomi. Sedia è la sedia su cui ogni re e regina... È tenuta al suo posto da un grosso ammasso. Questa è la pietra che sconno. Voi state banalizzando tutto. Ah, credetta, questa è la giornata. Non mi interessa quanti culi regali si sono seduti su questa sedia. Ascoltatemi! Ascoltatemi! Ascoltarvi per quale diritto? Per diritto divino, se dovete, sono il vostro re! No, non è vero. Me l'avete detto voi stessi. Avete detto che non volevate. Perché dovrei sprecare il mio tempo ad ascoltarvi? Perché ho diritto ad essere sentito! Come in forza? Io ho una voce! Sì, è così. Sì, è così.